www.redigio.it E la storia continua Facciamo un patto Fondate sull'impegno alla solidarietà e alla vigilanza reciproca le arti non ammettevano libera concorrenza E in montagna di carta Accanto ai consoli e a consiglio le cui funzioni si potrebbero definire in senso lato politiche ogni corporazione aveva una propria burocrazia sostanzialmente modellata su quella del comune i cui uffici chiavi erano quella del notaio che agiva da segretario e addetto al protocollo registrando tutti gli altri prodotti come risultato delle diverse manifestazioni della vita e dell'arte comprese l'attività in campo giurisdizionale e finanziario del tesoriere preposto alle finanze e alla cassa e perciò sottomesso a una minuta regolamentazione delle mansioni e dell'autonomia di spesa dei messi facenti funzioni di esecutori giudiziari di usceri e all'occorrenza anche di sbirri nelle corporazioni e nella grande industria dell'esportazione quella tesile in primo luogo l'alto livello qualitativo della produzione l'elevata qualità dei manufatti la complessità tecnica e professionale delle lavorazioni sollecitavano in misura maggiore che nelle arti lo sviluppo di un più ampio apparato amministrativo uno sviluppo che si rifletteva significativamente nell'aumento della produzione cartacea e dei materiali di archivio così all'inizio del Quattrocento nell'inventario dei beni appartenenti alla fiorentina arte di Por Santa Maria che raccoglieva molti e diversi mestieri sotto la crescente leadership dei setaioli figurava una grande quantità di libri grandi piccoli e mezzani e di camarlinghi e per lo civile e filse di richiami e di scritture appartenenti all'arte e scritture che hanno tenuti i provveditori e i notai e i vecchi e i nuovi e che continuano continuamente soprano a rinuovarsi di tempo in tempo come bisogna i quali sono tanti che sarebbe quasi impossibile a fare nell'inventario e quali sono nell'arte gli armari e nelle casse punto di rottura per decenni la storiografia medievistica ha dibattuto sull'origine delle corporazioni italiane e sulla loro più o meno possibile derivazioni da associazioni e mestiere delle epoche precedenti quali collegia nel tardo impero romano o i ministeri a Longobardi e le scuole bizantine dell'alto medioevo oggi gli studiosi concordano nel ritenere che la comparsa delle organizzazioni e mestiere che chiamiamo corporazioni avvenuta nel corso del dodicesimo secolo costituisca una vera e propria rottura rispetto al passato non negano tuttavia che certe professioni di importanza primaria nella società urbana come mestieri dell'alimentazione e dei trasporti dell'abbigliamento e delle calzature dei metalli e dell'edilizia abbiano conosciuto dall'epoca romana un'interrotta tutela da parte dello Stato che le organizzò in associazioni forzose documentate a Pavia Piacenza Ravenna e Roma il sistema dei ministeri a alto medievali sarebbe però crollato nell'undicesimo secolo con il sorgere dei comuni che avrebbero comunque mantenuto ereditandola dai precedenti detentori quel potere una qual forma di controllo su quelle città economiche che risultavano indispensabili per garantire l'approvvigionamento delle popolazioni cittadine www.redigio.it e la storia continua d'unico per garantire di l'approvvigionamento